Oggi tutti insieme cercheremo di imparare come fanno pre-pallare tra di loro le Tamarre Patrizia Fuorilecce, Lanca Sciasella, Minuccia Sciandata, Carvenzina Cavassagli, Friarell, Totò Noricchione E Deborina, E Deborina, ma Deborina come fa? Non c'è nessuno che lo sa Sta sempre un'acidata, collata e smadruccata, da sapa che cavalla, da zumba coppe spalla Lei non si mette il casco, va con rossa sculta Pasco, ma Deborina come fa? Non c'è nessuno che lo sa Lei dice parolacce, fa pure le linguacce e in tutta scancionata se ne va Guardo sui giornali, non c'è scritto niente, sembra che il problema non impratti alla gente Ma se per casa al mondo c'è qualcuno che lo sa, la mia domanda è ancora questa qua Ma Deborina come fa? Non c'è nessuno che lo sa Sta sempre un'acidata, collata e smadruccata, da sapa che cavalla, da zumba coppe spalla Lei non si mette il casco, va con rossa sculta Pasco, ma Deborina come fa? Non c'è nessuno che lo sa Lei dice parolacce, fa pure le linguacce e in tutta scancionata se ne va Grazie mille